Io rispetto le idee di tutti, però ci sono delle leggi che noi applichiamo, c'è stato un pronunciamento del Consiglio regionale e la sede della democrazia, non pretendo che le nostre decisioni accontentino tutti per l'amor di Dio, però io devo dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale che condivido peraltro e quindi vorrei peraltro che chi critica si occupasse anche delle cose buone che facciamo.